Cosa ci aspetterà dopo la pausa del Paradiso delle Signore? Stando ad alcune indiscrezioni online, sembrerebbe che dal 12 dicembre 2022, data in cui il Paradiso riprenderà dopo la pausa di due settimane imposta dai mondiali di calcio e le vacanze dell'Immacolata, ci aspetteranno molte sorprese. Abbiamo visto che Salvo è andato a Londra a trovare sua madre Agnese, che è lì per assistere la figlia Tina per via di una gravidanza a rischio. Quando Salvatore torna a casa, certo di poter digerire la fine del suo matrimonio con Anna, Agnese non segue il figlio e preferisce rimanere lontana dall'Italia. Sembrerebbe che Armando troverà un biglietto di Agnese che lo esorta a prendersi cura del figlio. Questo scatenerà sconforto nell'uomo, certo che con il biglietto affidato a Salvatore, Agnese abbia voluto dare il suo addio definitivo a Milano ma anche al Paradiso delle Signore. Che sia davvero giunto il momento di dire addio a questo amatissimo personaggio oppure si trattano solo di preoccupazioni infondate da parte del magazziniere? Voi cosa ne pensate? Ma Agnese potrebbe non essere l'unica a lasciare l'amatissima SOP. Sembrerebbe, infatti, che a seguito di un'allettante proposta di lavoro anche Marco e Stefania potrebbero decidere di lasciare il Paradiso. Una scelta sicuramente molto sofferta e difficile, dato che il Paradiso ha significato tanto per i due ragazzi. Che alla fine cambino idea? Ma se è vero che alcuni personaggi potrebbero lasciarci, è anche vero che altri potrebbero tornare. Stiamo parlando di Tancredi, il fratello di Marco, che potrebbe mettere scompiglio tra Matilde e Vittorio e Ludovica, che, invece, come sappiamo è l'obiettivo del cambiamento professionale e personale che sta interessando Marcello. Infine, sembrerebbe che l'idilliaca storia d'amore tra Vito e Maria potrebbe essere messa in discussione da una amara verità. Il ragazzo, infatti, come molti di voi avevano già presagito, potrebbe proprio essere stato mandato dal padre della Puglisi, che, ovviamente si sentirà tradita. Che questo laceri il loro rapporto per sempre? Non ci resta che aspettare dicembre per saperne di più. Intanto, fateci sapere le vostre previsioni per la SOP in attesa delle prossime puntate. Come sempre, non appena avremo delle nuove anticipazioni, vi aggiorneremo.